Musica Benvenuti al TG10, ampia pagina del telegiornale che dedichiamo alla vertenza Eni-Gela. Si inasprisce la vicenda, il ricorso della Cassa Integrazione in deroga fino al 31 marzo per i dipendenti dell'indotto Eni. In attesa dell'inizio dei lavori per la conversione green della raffineria che abbandona il petrolio per produrre biocarburanti investendo 2,2 miliardi di euro, non piace affatto a chi protesta. Pannicelli caldi, anche i sindacati Cigel, Cisle e Will hanno espresso uno giudizio fortemente negativo sull'accordo raggiunto giorni addietro. Presidi questa mattina diranzi al centro oli di Contrada, Piana del Signore. Vediamo. Si inasprisce la vertenza Gela e il ricorso della Cassa Integrazione in deroga fino al 31 marzo per i dipendenti dell'indotto Eni in attesa dell'inizio dei lavori per la conversione green della raffineria che abbandona il petrolio per produrre biocarburanti investendo 2,2 miliardi di euro, deciso mercoledì scorso a Roma tra regione, comune e ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, non piace affatto a chi protesta. Pannicelli caldi, anche i sindacati Cigel, Cisle e Will hanno espresso uno giudizio fortemente negativo sull'accordo raggiunto. Le contestazioni sindacali riguardano i tempi troppo lunghi per la ripresa dell'attività produttiva. L'avvertenza, complessa sin dal suo avvio, scrivono in una nota i segretari provinciali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania, è stata generata dai ritardi governativi e viene ulteriormente complicata dalle scelte dei governi nazionale e regionale in merito alle politiche industriali. Di fronte ad una situazione senza precedenti che colpisce la città ed il suo comprensorio, Cigel, Cisle e Will chiedono che si applichi in tutte le sue parti il decreto aria di crisi complessa emanato quasi un anno addietro e si rifiutano di sottostare alla logica dei due pesi e due misure. E questa mattina si tina di protesta dinanzi al centro Oli di Contrada, Piana del Signore. Loro credono che col contentino che ci hanno dato a Roma, dicendo che ci danno qualche mese di ammortizzatore sociale, noi ci leviamo dalle strade. La protesta continua, continua fino a quando non andremo a lavorare. Finché non ci sono i primi soldi per andare a lavorare, noi siamo da una strada all'altra e non smettiamo più. I tre mesi di cassa integrazione si potrebbero anche accettare, ma però a pensare che alla scadenza dei tre mesi di cassa integrazione si dovrebbe prendere il ciclo produttivo di andare tutti a lavorare. Ma se non si va a lavorare non sono i tre mesi che danno il contentino ai lavoratori. Per accontentare i lavoratori si debbano aprire i cantieri. Se no di qui non ti sposta più nessuno. Noi siamo costretti, o anche facciamo, che alziamo anche il tiro più forte. Questa è una lotta per la città di Gela, perché sappiamo bene che se gli operai e tutte le persone che lavoravano nell'indotto spendevano e facevano girare l'economia, se questo non succede significa che Gela muore. A iniziare dai negozianti, dagli artigiani e dai liberi professionisti. Io invece in televisione voglio fare un appello a tutti gli imprenditori di Gela, perché gli ricordo che gli operai siamo in protesta, siamo senza lavoro, ma le aziende sono loro. E presidi anche all'ingresso E dello stabilimento Eni. I presidi di Gela protesta per la mancanza di lavoro sono aumentati. Picchetto di operai sulla strada di eccesso all'ingresso E dello stabilimento. Quanto deciso a Roma giovedì scorso non risolve i problemi. Si chiede il lavoro, no alla Cassa Integrazione che ha un tempo prestabilito. Noi non chiediamo la Cassa Integrazione, forse l'assistenzialismo non l'abbiamo mai chiesto. Noi chiediamo solo il lavoro, quello che ci è stato rubato, negato da questi signori. Adesso noi ci siamo spostati dai blocchi perché è inutile danneggiare ancora il nostro cittadino che ci sta vicino. Noi cerchiamo di abbassare l'economia che alleni alla produzione che perde così qualcosa. Solo così ci possiamo far sentire, penso. Siamo sempre punto a capo. Non è che abbiamo risolto qualcosa. Ma cosa si potrebbe fare? Cosa dovrebbero fare i signori a Roma? No noi. Noi possiamo solo manifestare la nostra dignità che abbiamo perso, che ci hanno fatto perdere questi signori. Dopo 30 anni di stabilimento ci hanno buttato fuori così, come se niente fosse. Gente che ha dato l'anima là dentro. Intanto una riunione per la verifica del protocollo di intesa Eni per l'area di Gela si svolgerà l'11 febbraio prossimo presso il Ministero per lo Situppo Economico a Roma. Una apposita convocazione è pervenuta alle parti firmatarie del documento di programmazione industriale, cioè il Ministero dell'Ambiente, la Regione Sicilia, il Comune di Gela, l'Eni, Confindustria e i sindacati confederali Cigel, Cisle, Will e UGL. Si farà il punto della situazione in cui si trovano i lavori programmati dal protocollo siglato il 6 novembre del 2014, con cui l'Eni si era impegnato ad investire in Sicilia 2,2 miliardi da spendere in attività di ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi nella bonifica delle aree dismesse del petrochimico di Gela e di pertinenza dei pozzi petroliferi e nella riconversione della raffineria di Gela in green refinery per la produzione di biocarburanti. Ritardi nel rilascio delle autorizzazioni ministeriali hanno paralizzato alcune iniziative causando il blocco delle imprese dell'indotto e le attuali proteste dei lavoratori rimasti senza reddito e senza strumenti di sostegno. Dopo 30 anni di stabilimento ci hanno buttato in mezzo a una strada senza nessuna forma di tutela, senza nessuna forma... e anche quando abbiamo avuto questa tutela abbiamo avuto la cassa integrazione, la cassa integrazione è arrivata sempre dopo due mesi, tre mesi, non si capisce il motivo. Quando in altre parti puntualmente ogni mese è arrivata. Come mantiene la famiglia? Come mantengo la famiglia? Con l'aiuto dei genitori, dei suoceri, con i pensionati. L'Eni tuttavia conferma la validità dei propri impegni ed annuncia l'inizio della costruzione dei nuovi impianti entro l'inizio della primavera 2016. Per accelerare l'iter delle autorizzazioni di canterizzazione è stato deciso di convocare per il 18 febbraio a Roma una apposita conferenza di servizi col Ministero dell'Ambiente. Confa Commercio, Confa Esercenti, Casa Artigiani, Confa Artigianato, CNA sono insoddisfatti dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico di alcuni giorni addietro. La richiesta era chiara, le risposte invece no. Ad oggi si legge in una nota, ribadiamo che il territorio necessita di interventi mirati ed immediati. Le proposte delle associazioni sono creazione di una zona franca urbana che comprenda tutto il territorio e la zona industriale aperta alle nuove e vecchie attività. Ed ancora, accelerazione dei tirocini formativi previsti dal piano di garanzia giovani, incentivare le botteghe scuole per la creazione di nuove opportunità lavorative e artigianali e velocizzare l'iter per l'avvio delle bonifiche. Considerando che tutti gli incontri ad oggi effettuati per la risoluzione dei problemi, vertenza o gela, sono stati dilattatori e l'unico risultato ottenuto è stato quello della Cassa Integrazione per altri tre mesi, gennaio, febbraio o marzo, riteniamo, si legge in un comunicato, che l'unica soluzione attuabile e concreta è la nomina di un commissario straordinario con poteri speciali in grado di obbligare gli uffici competenti ad elaborare in tempi molto brevi gli atti necessari all'inizio dei lavori previsti nel protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. Pensionati sulle strade a manifestare solidarietà ai lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni, che da quasi due settimane protestano per la grave crisi occupazionale che ha interessato il comparto industriale. Questa mattina presidio sulla strada provinciale Gela Butera. Quanto sta accadendo, hanno sottolineato i pensionati, non coinvolge solo l'industria, è un'intera città che soffre. I pensionati è chiaro che fanno parte integrante di questo territorio e di questa città e il problema non è dei pensionati, è di tutti, quindi noi non siamo solo per solidarizzare, ma facciamo proprio parte attiva di questa tragedia che è la mancanza del posto di lavoro nel territorio. Al di là delle decisioni del Eni, non è solo l'Eni che deve rispondere alla ricchezza di questo territorio, è tutto il territorio, i nostri politici, i nostri rappresentanti, le parti sociali, le imprenditorie, deve capire che l'alternativa alla raffineria si deve cercare e si deve creare, perché la raffineria avrà il suo tempo, oggi, domani, fra dieci anni, quindici anni, ma noi dobbiamo risolvere il problema del lavoro. La solidarietà è incondizionata ai lavoratori dello stabilimento? Certo, noi siamo i pensionati e forse saremo gli ultimi pensionati di questo territorio, perciò dobbiamo dare manvorta ai lavoratori perché loro sono abbandonati da tutte le istituzioni. Ora noi faremo qua il sit-in, poi domani possibilmente ci organizzeremo per farlo in città, per dare manvorta e fare ai nostri figli dare un avvenire, perché purtroppo io ho due figli disoccupati e li mantengo con la mia pensione. La lotta sarà dura, perché il governo, quando vedo, non vuole trattare, non vuole venire incontro a questo territorio che dopo 40 anni, diciamo, vede la raffineria morire. Quindi o loro vengono incontro, prima con gli ammortizzatori sociali e poi avviando questa green raffineria, altrimenti la lotta continuerà. Una delle settimane più lunghe della storia recente di Gela, i blocchi, il lungo e partecipato corteo, gli incontri romani e i risultati ottenuti, deludenti per alcuni, incoraggianti per altri. Il futuro di Gela sempre appeso ad un filo, mentre la città continua a spopolarsi e i problemi non tendono ad essere risolti, i gelesi che provano a reggire anche per molti e oramai troppo tardi. Di questo ma anche di altro si parlerà stasera ad Agora il rotocalco settimanale di Canale 10 ideato e condotto da Franco Gallo, come ogni venerdì sera tornerà ad occuparsi di Gela e dei gelesi. Appuntamento lo ricordiamo a partire dalle 21 con ospiti in studio e contributi preparati dalla nostra redazione. Donazione di organi, cambiamo argomento, atto d'amore fatto culturale è il titolo del convegno che si terrà nell'auditorium dell'aricio classico di Gela lunedì 1 febbraio alle 16 organizzato dal reparto di rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele. Sono previsti gli interventi del dirigente scolastico Giochino Peritteri, di Lucio Antona, di Salvatore Benfante Picogna dell'associazione Maestri Cattolici Italiani e di Giacomo Giurato, neoreferente interprovinciale di Aido, l'associazione italiana, donatori di organi e tessuti. Hanno assicurato la loro presenza, Luciano Fiorella, direttore sanitario dell'ospedale gelese, il direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono, ed il sindaco Domenico Messinese. È prevista la presenza di Reginald Green, il papà di Nicolás, 7 anni, vittima nel 1994 di un assassino sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, mentre era diretto con i genitori in Sicilia. Gli organi di Nicolás Green vivono in 7 persone. Gli impianti termici di riscaldamento dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di Gela in via Ettore Romagnoli non sono funzionanti e nonostante le continue richieste di ripristino avanzate dal dirigente scolastico Grazio Di Bartolo verso gli organi competenti, il disagio continua a persistere. Del caso, tra gli altri, è stata informata anche la Procura della Repubblica. Sentiamo. Preside, lei scende in campo questa mattina a difesa della scuola per tutelare il diritto degli studenti a poter effettuare le loro lezioni in ambienti confortevoli, in primo luogo riscaldati nei mesi più freddi. Certo, abbiamo questo disservizio che è iniziato giorno 11 e oggi ne abbiamo 29, quindi 15 giorni che abbiamo questo guasto che non si è risolto. Io ho fatto le mie richieste al consorzio provinciale e non ho avuto nessuna risposta. Abbiamo noi denunciato già questa cosa giorno 12, subito appena si è verificato il guasto, poi il 13 abbiamo fatto un sollecito e non avendo avuto risposte mi sono persino rivolto al prefetto specificando a lui che c'è questa situazione di disagio per i ragazzi. Quindi ho mandato questa comunicazione, il 20, un ulteriore sollecito del 22, non ho avuto nessuna risposta. Ieri ho convocato l'assemblea dei genitori, ho coinvolto loro, ho convocato anche il consiglio d'istituto, speravo insomma che questa cosa si risolva il più presto possibile. Nel frattempo per, diciamo, fronteggiare quelle che sono le contestazioni dei genitori, dei ragazzi, ho fatto tarolo ridotto. Però nonostante ciò, insomma, è una situazione insostenibile. È vero che la Sicilia è un posto abbastanza caldo, ma è anche vero che le aule sono vuote, non sono riscaldate a prescindere. Quindi almeno nei mesi più freddi, cioè gennaio, febbraio e marzo, insomma sarebbe cosa buona che fossero riscaldate. Sì, necessariamente, perché tutto sommato, insomma, la temperatura all'interno è inferiore a quella dell'esterno, perché dopo le feste di Natale le aule vuote, insomma, sono a presse di freddo. È necessario e importante che ci siano i condizionatori. Attraverso le nostre telecamere lei può approfittare per lanciare un ulteriore appello, nonostante, insomma, la tempestività nelle richieste. Sì, io mi auguro, insomma, che gli enti preposti cercano di affrontare questa problematica e risolverla il più presto possibile. È previsto per domani, a partire dalle 10, nell'auditorium del liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio, l'incontro con gli esperti dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta nell'ambito dell'attività di educazione alla salute e di promozione di comportamenti corretti alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Al termine dell'incontro, gli studenti ritorneranno in classe per continuare il normale orario scolastico. Open day oggi, dalle 17 e domani, dalle 9.30, nel plesso centrale dell'Istituto Comprensivo Statale Salvatore Quasimodo di Gela, in Viale Indipendenza, diretto da Maurizio Tedesco. Durante l'iniziativa sarà possibile visitare la scuola e conoscere la sua offerta formativa. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci in seconda parte del telegiornale. Avranno inizio mercoledì 3 febbraio nella chiesa di Sant'Agostino a Gela. I sette mercoledì di San Giuseppe verranno celebrate due messe, una la mattina alle 9, preceduta da preghiere e canti in onore del Santo Patriarca, ed un'altra la sera alle 18. Giovedì 4 febbraio, invece, sempre nella chiesa di Sant'Agostino, cominceranno i 15 giovedì di Santa Rita. Anche in questa occasione saranno celebrate due messe alle 9 e alle 18. Il 22 maggio, giorno della festa dedicata alla Santa di Cascia, presiderà una solenne messa in piazza Sant'Agostino, il vescovo di piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana, con la benedizione delle rose. Sarà celebrata martedì 2 febbraio alle 18.30 in chiesa madre a Gela, la messa in onore della beata Maria Cristina di Savoia. La Federazione Italiana Amici della Bicicletta continua le sue attività a Gela e per questa domenica è stata organizzata una iniziativa per promuovere una nuova struttura a Gela, cioè la pista ciclabile. Sì, proprio così. Quest'anno l'associazione si è data nuovi obiettivi, appunto promuovere la mobilità sostenibile e accendere i riflettori sul territorio. Proprio domenica andremo a vedere questa nuova pista ciclabile, che è una prima dorsale di pista per le biciclette all'interno della nostra città e andremo anche al Parco di Montelungo per conoscere il parco, le bellezze e il degrado del parco stesso che è esistente in questo momento. Cioè da un lato cominciare a sfruttare quello che già abbiamo, quindi le potenzialità che ci sono in città, ma dall'altro invece sviluppare un pensiero critico e guardare con una critica costruttiva anche a ciò che invece deve essere ancora fatto. Sì, è proprio così. La nostra associazione punta ad accendere i riflettori sul bene che è stato fatto nella città, piccoli passi, ma tanto altro ancora deve essere fatto. Infatti il parco di Montelungo versa in uno stato pietoso, c'è della spazzatura, c'è dell'altro. Ha una motivazione la nostra pedalata, chiedere ai cittadini intanto un maggiore rispetto dei parchi e delle aree verdi, quindi non buttiamo più spazzatura quando andiamo in giro e da un'altra parte chiediamo all'amministrazione comunale di impegnarsi per degli investimenti e dei provvedimenti a favore della mobilità sostenibile urbana, che tanto la città necessita. Dunque l'appuntamento a che ora è e dove? L'appuntamento è domenica alle ore 10 ai muretti di Macchitella, ognuno con le proprie bici, ha una pedalata aperta a tutti e per le famiglie, quindi sono invitati i bambini, anziani e quant'altro. Vi aspettiamo numerosi perché i cittadini vogliono essere responsabili. La Croce Azzurra Ollus di Gela, ricerca personale OSA, infermieri ed addetti di segreteria è personale da dedicare a servizio di ausiliato. Per informazioni contattare il 334-7423-417, lo ripetiamo, 334-7423-417 ogni giorno dalle 9.30 alle 11.00. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, croce.azzurra-gelachiocciolalibero.it, lo ripetiamo, croce.azzurra-gelachiocciolalibero.it. E ora la nostra consueta rubrica quotidiana, in breve. Fino al 31 gennaio prossimo, presso il Palazzo Ducale, è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo, realizzata da Franco Pardo, in collaborazione con Croce Attardi. Espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra, patrocinata dal Comune di Gela, potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 82esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica alle 19.00 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il resital del pianista Davide Sciacca. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Ultimo appuntamento con la grande gezza al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Oggi alle 21.15 salirà sul palco Fabio Concato per informazioni di rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92, 0933 91 18 92 e 345 588 0580. Ripetiamo anche questo numero telefonico 345 588 0580. Sono due film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela. Alle 17.30 e alle 19.30 Carol e alle 21.30 Il Ponte delle Spie. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.